Quindi io chiedo anche un voto a Gianluca Galletto per portare un nuovo modo di far politica un modo che si fondi sulla trasparenza, l'innovazione e la responsabilità quindi non soltanto nuove idee per tutelare davvero gli interessi di questa terra ma anche nuovi modi di far politica e di porsi di fronte all'elettorato Grazie Grazie